Grazie! Che tutti battano le mani coloro che hanno voglia di ascoltare la storia dei cento passi! Grazie! La tua vita adesso può cambiare, so se sei disposto a camminare, ridando forte senza aver paura, notando cento passi lungo la tua strada. E allora, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! Ma come tanti sceglie di partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle menzioni si era candidato. Diceva da vicino, e li avrebbe controllati, ma poi non aveva tempo, perché venne ammazzato. Nel nome di suo padre, nella notte non è servito, gli amici disperati, non hanno più trovato. E allora dimmi se tu stai a contare, e dimmi se stai anche a camminare. E allora, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldomoro, L'alba dei funerali di uno Stato, e allora dimmi se tu stai a contare, puoi dimmi se stai anche a camminare. Portare, camminare, scrive a cantare, la storia di perpile, degli amici, se ci viene allora. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti